Raid è un film unico, è un film che susciterà sicuramente reazioni contrastanti ma forse proprio per questo va visto. Non è assolutamente un film sulle corde italiane ma bensì un progetto di profilo internazionale dove abbiamo comunque tutta una serie di avvenimenti e accadimenti che utilizzano tanto la post produzione. Tutto il processo di post produzione è stata una bella sfida. Per riuscire diciamo a uscire nei tempi noi abbiamo dovuto iniziare a post produrre delle scene ancora prima di chiudere il montaggio quindi abbiamo iniziato a montare e in parallelo già a realizzare degli effetti speciali per alcune scene. Raid ha due tipi di effetti, ha l'intervento in CGI quindi creazione di elementi 3D e l'inserimento di contributi grafici di motion graphic all'interno di vari dispositivi sia i monoliti che i rider trovano durante il loro percorso sia tutta una serie di altri schermi che vediamo all'interno del film. E una serie di effetti invisibili che servono per mettere i nostri attori all'interno delle scene più d'azione. In poche parole si ricrea un viso CGI derivato da una scansione comunque dell'attore e messo sulla controfigura e sullo stand che compie raccobazie o piuttosto che azioni particolari. La sequenza più impegnativa è stata sicuramente la Black Room con circa 140 shot di contributi grafici da inserire in un led wall all'interno di una stanza con pareti a specchio. In questo caso la sfida era soprattutto rendere i riflessi quindi le piccole deformazioni e cambi e differenze di luminosità in maniera realistica senza però appesantire troppo la lavorazione rischiando quindi di renderla ingestibile all'interno dei tempi piuttosto ristretti che avevamo. L'uscita dal tunnel è stata fatta appunto da un vero tunnel quindi da una galleria solo che questa galleria era in una location che era tutt'altro che in montagna quindi quello che è stato fatto è stato tutto un lavoro di cancellazione di tutta la parte di elementi che non andavano assolutamente bene ed è stata creata tutta la neve tutto set extension delle montagne sullo sfondo. Nel momento dell'uscita i due bikers erano in montagna ma non avevano nessun tipo di tunnel indietro quindi quello che è stato ricostruito in cgi ed inserito a livello di fotografia a livello di illuminazione a livello di ombri. Il risultato finale è avere una sorta di raccordo preciso su quello che avviene durante l'uscita e quello che avviene dopo. Siamo sicuri che un film come Ride non c'è per il modo in cui è stato girato per il modo che è stato concepito per il modo che è stato post prodotto è un'esperienza visiva e uditiva unica. Vedere Ride vuol dire vedere una cosa che non si è mai vista al cinema. Io stesso sono curioso di vedere Ride al cinema per capire come reagisco. Ancora una volta dopo Mine Fabio e Fabio ci hanno proposto un progetto che è qualcosa di completamente nuovo, un action che non si era ancora visto nel panorama italiano. Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite non perdetevi il nostro blog blog.screenweek.it. Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!